E' sì, eh sì, eh sì, eh sì, è sick parade, è sick parade ragazzi, è sick parade, è sick parade, allora, 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 prima di iniziare vi dico subito, ho sentito un rumorino perché fa un caldo assassino e quindi ho giusto il ventilatorino, ma se sentite troppo rumore lo levo la prossima volta, quindi ditemelo che lo stacco proprio, qui non ho un condizionatore ragazzi, quindi ho un ventilatorino che è così, proprio così, cioè, ve lo faccio vedere, non so se si fa Eccolo, oddio, è così, e quindi questo qui è il ventilator, orca puttana, questo è il ventilatorino che non fa casino, ma che fa un caldo meschino, allora, regà, 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 64.250 iscritti, vi ho detto arriviamoci, entro, quando vi pare che vi porto un altro sick parade, ci siamo arrivati, ecco un altro sick parade, però vi dico un'altra cosa, regà, allora, a questo punto, stasera, se volete un altro sick parade Massimo alle 11, 11 e mezza, più tardi non vado, 64.300 iscritti, oppure 1.000 mi piace sotto questo video, fate voi, o arriviamo a 64.300 entro stasera, o arriviamo a 1.000 like sotto questo video, nuovo sick parade Allora, 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 c'è tanta carne al fuoco, tanta carne al fuoco, partendo dalla posizione numero 10, dove non c'entra l'Italia, ma è una cosa che mi interessa particolarmente Perché? Perché adesso a breve inizierò anche a fare i mercati che farei delle altre squadre estere, oltre a poi appunto a spalleggiare quelli dell'Italia, perché vi dico che non so, finito, ovviamente Li faremo tutti quelli dell'Italia, ma faremo anche tutti quelli delle squadre estere, quindi piano piano arriveranno tutti i mercati che farei E dovremo poi fare prima o poi il Bayern Monaco, il Bayern Monaco sarebbe in trattativa per Kyle Walker Allora, cerchiamo di arrivare a capire di che cosa stiamo parlando Walker in questo momento è un giocatore che vorrebbe rimanere al Manchester City Questa è la sua idea, è un fedelissimo di Guardiola, sta bene lì, l'unica cosa negativa è che gioca molto poco E la possibilità di andare al Bayern Monaco per giocare gli permetterebbe di rimanere in un club top Perché rimarrebbe in un club assolutamente top, nel quale vai per giocarti la UEFA Champions League Per giocarti il campionato, per giocarti tutte queste competizioni che ti giochi anche al Manchester City Però lì diventeresti un titolare E pare addirittura che, insomma, i rapporti tra le due compagini siano molto buoni Vi faccio un altro esempio Già a gennaio Joe Cancelo, che guardia non sapeva che farci, lo ha prestato al Bayern Monaco City e Bayern hanno un rapporto ottimo tra le due per quanto concerne il calcio mercato È per questo che si crede che ci sia la possibilità di vedere appunto Kyle Walker al Bayern Monaco E pare che tu, Kyle, l'abbia proprio chiesto per rinforzare la retroguardia Ora cercheremo di capire Prima di tutto, discorso di Cancelo, che però non verrà esercitato in riscatto 70 milioni di euro il Bayern Monaco non li spenderà Io penso che Cancelo, ragazzi, sia un giocatore veramente da prendere Per qualunque club del mondo sarebbe da prendere, cioè o Cancelo Tornerà al Manchester City, ma visto che c'è ancora Guardiola, credo che Cancelo andrà via E in realtà prima, diciamo un paio di giorni fa, i tabloid tedeschi parlavano del fatto che la trattativa tra il Bayern Monaco e Walker fosse molto avanzata Adesso la situazione sembra cambiare Cioè sembra che lui voglia rimanere al Manchester City, certo non disdegnerebbe la possibilità di andare al Bayern Monaco Però la sua idea è quella di rimanere al Manchester City Comunque avremo degli aggiornamenti, certo che se Walker dovesse andare al Bayern Monaco sarebbe un trasferimento abbastanza sorpresa Che però, vi dico la verità, mi interesserebbe non poco Alla posizione numero 9 abbiamo il Real Madrid che ha acquistato Gioselu Gioselu dopo che ci ha purgato, no non ci ha, sì, ci ha purgato a noi Gioselu in semifinale di National League con la Spagna E poi ha pure segnato il rigore decisivo, se non sbaglio, o comunque uno dei rigori in finale contro la Croazia Gioselu ha 33 anni, torna al Real Madrid Tra l'altro, lui ragazzi fu al Real Madrid anni e anni e anni fa Adesso giocava all'Espagnol, il Real Madrid l'ha preso come, penso, vice del centravanti che verrà al posto di Benzema Non credo che Gioselu viena a sostituire Karim Benzema Però intanto è un acquisto, arriva in prestito con diritto di riscatto all'Espagnol Allora diciamo che questi club fanno queste cose nei campionati esteri un po' particolari Mi viene in mente anche, oddio come cazzo, che si chiamava la Bright White Cioè questi giocatori, no, che perché l'Espagnol dovrebbe regalare al Real Madrid il proprio centravanti in prestito con diritto di riscatto Se lo vuoi me lo paghi, cioè immaginatevi oggi che si presenta, che ne so, fammi pensare, dal Verona Che c'ha Lazovic, che comunque è il loro titolare La Juve, gli dice me lo dai in prestito con diritto No, raga, o ve lo prendete in scadenza e io posso capire che voi ve lo prendiate in scadenza Oppure non è che sono qui a fare la carità Cioè se volete, se volete Lazovic me lo pagate Se è mio e se c'è un contratto con me Ecco, in Spagna ad esempio queste cose raramente succedono Perché poi Giosellu magari avrà premuto dicendo all'Espagnol Io ti ho dato tutto, ho dato tutto quello che avevo Ho dedicato la mia vita insomma a squadre my top Mi chiama Real Madrid da 33 anni È l'ultima occasione per reindossare dieci anni dopo la maglia del club che mi ha lanciato E che ho sempre ti fatto fin da bambino, mandami E allora lì in quel caso ovviamente il club dice ok ti mando, ok accetto di mandarti Mi può andare bene così, lo accetto E quindi secondo me diciamo che quello è il nesso per cui Giosellu se ne va al Real Madrid Alla posizione numero 8, attenzione Perché continuano le trattative, il Milan non lo ha mai nascosto E adesso stanno continuando in perterrite per dei rossoneri per Tamese Io ve l'ho già detto, il Milan sta cercando un centrocampista Ma aspettavo forse un centrocampista di un livello superiore Non che Tamese sia scarso, anzi credo vi dirò che nel centrocampo a due del Milan Tamese ci sta veramente bene Cioè me lo immagino veramente bene come innesto alle spalle di Tonali e di Benazer L'unico problema è che Benazer è rotto ed è rotto fino a data da destinarsi Cioè in questo momento non sappiamo ancora quanto Benazer sarà rotto E quindi Tamese deve arrivare per fare subito il titolarissimo del Milan E io non so se questa cosa Tamese ce l'avrebbe, ok? Cioè è una cosa che mi inquieterebbe un pochino se fossi un tifoso del Milan È chiaro poi che comunque si parla di un signor calciatore È chiaro comunque che si parla di un giocatore molto 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 interessante Ha giocato nell'Atalanta E il Milan sta ancora cercando un calciatore che possa ricoprire il ruolo di Frank Chessy E io vi dirò che secondo me Tutto sommato Tamese c'ha un po' le qualità C'ha un po' le caratteristiche più che le qualità Le caratteristiche di Chessy Cioè ce le avrebbe quelle caratteristiche da ripercorrere E poi sì, chiaramente è un mediano, è un centrocampista Che però può avere anche la licenza di offendere Tipo vaffanculo, no scherzo Di offendere realmente qualora ci fosse la possibilità E quindi secondo me il Milan potrebbe crescere veramente tanto Aggiungo anche un'altra cosa Un anno fa il Milan, non so se vi ricordate, ne parlavamo nei Sikh Parade Ne riparliamo oggi Aveva comunque dimostrato interesse per Tamese Poi non c'era arrivato e quindi aveva virato completamente su Franks Perché era riuscito a prenderlo in prestito con diritto di riscatto Quando è partita la campagna acquisti dello scorso anno del Milan L'idea del Milan era quella di provare a prendere Tamese In prestito con diritto di riscatto Il Verona ha detto ma tu sei scemo in culo E quindi Tamese non te lo prendi, non te lo do A meno che tu non mi dai 20 milioni di euro Oggi le cifre si sono abbassate Anche perché lo scorso anno il Verona era una squadra che arrivava nonna, decima Quest'anno il Verona è una squadra che si salva il play-out E quindi è chiaro come se Tamese fa un po' di pressione per andare via Il Verona fa anche fatica a dirgli no tu non vai via E se vuole andare via va via Per me c'è veramente poco da poter insistere sotto questo punto di vista Ed è per questa ragione che vi dico che secondo me Qualora si decidesse di prendere quella strada lì Questa notamese non lo vai a pagare più 20 milioni Non te lo danno in prestito con diritto di riscatto Però investendo una decina di milioni secondo me potresti portartelo a casa Vedremo perché questa è una trattativa che mi incuriosisce non poco Come mi incuriosisce tanto il futuro di Rabiot Che è alla posizione numero 7 Ma non solo il futuro di Rabiot Perché non lo sto qui a parlare di fuffa Io ve lo dico con grande chiarezza Al di là dei like Regà se dovessi parlare di fuffa Questi video non li farei Io li faccio solamente quando c'è roba di cui parlare E vi dico che c'è anche altra roba di cui parlare Per questo vi dico che se stasera arriviamo a 64.300 iscritti Stasera altro video Quindi oggi grande giornata di Seek Parade Però vi stavo dicendo perché pare dalla Spagna questo riportano Che non solo il futuro di Rabiot è ancora in bilico Perché in questo momento la Juventus non voleva perdere Adrien Rabiot E per non perdere il francese pare che abbia fatto un'offerta annuale al giocatore Più o meno per le stesse cifre che percepisce adesso E Rabiot non è che fosse convintissimo Io ve l'ho già detto Non mi voglio prolungare ulteriormente Fossi Rabiot rifiuterei Rifiuterei perché per quanto mi riguarda Io te voglio bene Te voglio un bene dell'anima Però io sto cercando più soldi Sto cercando un contratto lungo Sto cercando un progetto Tu mi offri un annuale Ai stessi cifre di quest'anno Ma perché dovrei? Cioè se non avessi una squadra tipo Di Bala l'anno scorso Che poi ha accettato la Roma Te ce vengo pure Ma visto che la squadra ce l'ho Perché lo vogliono tutti Perché Rabiot dovrebbe accettare l'offerta della Juventus E dalla Spagna Pare che in questo momento La mamma del giocatore Pare Cioè insomma la mamma che è la Veronique che è la gente Pare l'abbia offerto al Barcellona Ne parla Gerard Romero Ne parla Gerard Romero E voglio capire E voglio capire perché arriverebbe a parametro zero E in questo momento Da quanto si è capito il Barcellona ha detto Guarda A me non è che non interesserebbe Interesserebbe perché io in questo momento I soldi da spendere Per prendere calciatori che costano Non li ho E Adrien Rabiot Che comunque ha un parametro zero Che sarebbe un'ottima possibilità Mi piace Il problema del Barcellona è che ha tante alte priorità Il Barcellona è una squadra che in questo momento A centrocampo c'ha Gavi A centrocampo c'ha Pedri A centrocampo c'ha De Jong A centrocampo c'ha ancora Busquets Cioè il Barcellona in questo momento Non ha alcuna intenzione C'è ancora Busquets al Barcellona O se ne è andato Non lo so Non è che se ne è andato Senza che io me ne accorgessi Perché magari se ne è andato Mu adesso No ancora lì sta Meno male Meno male Sta ancora lì Perfetto Sì no perché Sapevo che era capitano Quest'anno ha vinto il campionato protagonista Però magari mi sono perso Andato in Arabia Saudita Forse se ne era semplicemente parlato Forse l'ha rifiutata Il Barcellona a centrocampo Sta messo molto bene Quindi chiaramente dice Ok a me era più piace tanto Ma poi per cosa? Per andare a far Diciamo Depotenziare I miei giovani Gavi e Pedri Per arrivare poi a Fare dei passi in teatro Con i passi in avanti Che ha fatto quest'anno De Jong Grazie ma no E quindi pare che il Barcellona Non sia minimamente interessato A provare a prendere Un calciatore Come è Forte sicuramente Adrià Rabioc Che però vi ripeto Lo vedrei molto meglio In Premier League In questo momento Rispetto che Ad esempio in Spagna Dove non credo che sia la sua Questo è il mio punto di vista Sono i miei due centesimi Posizione numero 6 Per Il Napoli Per le parole di De Laurentiis Perché Si è parlato tante Per la conferenza stampa Di De Laurentiis In relazione A Rudy Garzia Rudy Garzia Nuovo allenatore del Napoli Oggi ho fatto un video Sul primo canale Recuperatevelo se ve lo siete perso Nel quale reactionavo Al giorno in cui Ha esonerato Garzia con la Roma Quindi andava a dare Il mio punto di vista E nelle domande Adesso leggeremo le domande E cercheremo anche di capire Qual è stata la scelta Perché è stata questa scelta qui Quella di De Laurentiis Per andare su Garzia Alla domanda Alla domanda Il presidente Che ha vinto lo scudetto Che obiettivo si è posto Gli ha risposto Lo scudetto Spero sia un fatto Iniziatico Iniziatico Che parola è? Vabbè Ci abbiamo provato negli anni passati E finalmente ce l'abbiamo fatta Spero non sia un caso isolato Ma all'inizio di un percorso Speriamo di ripeterci Poi ha detto a Garzia Tu sei già arrivato in segnale di Champions Mi basterebbe centrare la finale Ci metterei la firma Chiaramente Però grazie a Caz Cioè nel senso Mi sembra anche un po' troppo Un po' tumace Ci sta che tu voglia Far bene in Champions League Ma mi basterebbe arrivare In finale di Champions Quell'anno in Lione Con Garzia Ci è arrivato in semifinale Ma perché se so Allineati gli astri La cosa che mi interessa di più Al di là Al netto delle domande Di Osiman Eccetera Sono quelle di Garzia E De Laurentiis chiedono Perché Garzia Non ha dato il via A un casting molto lungo Questo è quello Che ho dato in pasto a voi Che altrimenti mi trituravate Per tutta la giornata Io mi sono dedicato Per tre settimane Alla festa Scudetto È stato tutto Un generoso dare alla città Che meritava Perché la festa Con la Fiorentina Non ci bastava Il 5 Ho cominciato a pensare Al nuovo allenatore Per 11 giorni Ho cominciato a vedere Un po' la mappa Di quella che Non ha Ho cominciato a vedere Un po' la mappa Di quella che aveva dato In pasto a voi Di quella Vabbè di quel La mappa di quelli Credo Vabbè non lo so E ho cominciato a selezionare Chi giocava con successo Il 4-3-3 Per me era fondamentale Mantenere l'assetto Dei giocatori Che avevamo Perché noi non abbiamo Bisogno di cambiare la squadra Ho visto che Rudy in Serie A È arrivato due volte secondo Un anno addirittura Ha cominciato con 10 vittori di fila Con noi Tutte e due le volte Tra l'altro Ho giocato Arrivato due volte secondo Mi sono detto che Rudy Fa il caso nostro Poi ho visto quanto bene Ha fatto con il Lione E io sono molto attento Alla Champions League Tutte le coppe Così come sono Non vanno bene La Champions è parterra Che mi consente Di rivalutare il brand Napoli Nel mondo Cerchiamo di cambiare questo calcio Ma non è facile Perché bisogna cambiare Il cervello di troppe persone E poi ha detto Con Osiman non mi sono sbagliato Garzialo ho scelto in 11 giorni Ci siamo visti a cena Abbiamo fatti contratti Che sono lunghi Gli abbiamo fatti digerire Da parte mia C'è tutto lo slancio Per un nuovo inizio Ho grandissima fiducia Bisogna stare calmi E lasciarlo lavorare Senza mettere ansia e fretta C'è una bellissima canzone Che dice Sarà quel che sarà Quindi sostanzialmente Mi interessava questo Voglio vedere Sono curioso Allora diciamo che forse Lui esagera un pochino Secondo me Quando dice L'obiettivo Che mi basterebbe È la finale di Champions E rincerlo Scudetto Grazie Ma se il Napoli Ragazzi l'anno prossimo Arriva in finale di Champions E vince lo Scudetto Garzia ha fatto meglio Di Spalletti Poi Meglio di Spalletti Non farà mai nessuno Perché Spalletti Ha vinto uno Scudetto Dopo 33 anni E ha aperto un ciclo Però sinceramente Dubito che Garzia Riesca a fare meglio Di Spalletti Che nessuno faceva così bene Dopo 33 anni Cioè il valore Del lavoro di Spalletti È molto alto Sinceramente Dubito che riesca A fare così tanto bene Magari vince lo Scudetto E arriva Ma magari può pure farlo Però Porselo come obiettivo Quello di arrivare In finale di Champions Lo puoi fare Se sei il Bayern Monaco Se sei il City Se sei Real Madrid Però vediamo Magari ha ragione lui Cioè quest'anno De Laurentiis Ha smantellato la squadra E poi aveva ragione Quindi voglio fidarmi Comunque delle idee Di De Laurentiis Alla posizione numero 5 Attenzione Perché l'Inter Rischia di perdere Un calciatore molto forte Infatti il Manchester United Avrebbe acceso i fari Lampeggianti Su Andre Onana Il Manchester Sta cercando un altro portiere Il portiere che andrebbe A sostituire De Gea E pare che Onana C'ha veramente tanti estimatori Nel campionato inglese Ne avevamo parlato Qualche giorno fa Nel SIG Parade Dell'interessamento da parte Del Chelsea Per Onana Adesso l'altro interessamento È quello Dal Manchester United Sempre appunto Per il portiere Dell'Inter Onana sembra avere Tutte le caratteristiche giuste Per prendere il posto Di De Gea E pare addirittura Dall'Inghilterra Riportano questo Che ci siano già stati Contatti telefonici Con l'allenatore Del Manchester United Pare che Tenag L'abbia chiamato Abbia chiamato Onana E che ci sarebbero stati Appunto dei contatti Per cercare di capire Se la situazione è fattibile Ora io vi dico la verità Per quanto mi riguarda Forse L'Inter Non ha messo bene in chiaro Il futuro di Onana Cioè Io credo sempre di più Che Onana Sia tra i possibili partenti Perché se Onana Non è tra i possibili partenti Così tante voci su Onana Non ci stanno Guardate i Maignan C'è stata una volta Una voce su Maignan Il Mino ha detto Maignan non parte Punto A meno che non si presentano Con 400 miliardi di euro Maignan non parte Maignan non parte Ora nei SIG Parade Non parliamo più Di Maignan che parte o non parte No Non se ne parla più Ma perché è inutile Stiamo parlando del nulla Ok Ecco Onana invece Se ne parla un po' troppo Ma perché secondo me Se arriva l'offerta giusta All'Inter Potrebbe anche accettare Appuntando magari Su un vicario Puntando magari Su un carne secca Rivalutando Rivoluzionando Il comparto portieri Di cedere A cifre enormi Onana Per me questo è un errore Cioè io fossi nell'Inter Blinder e Onana Possono partire tanti calciatori Può partire Brozovic In Arabia Saudita Può partire Magari Magari Come cazzo si chiama Dunfris Questi possono partire Però secondo me Onana non dovrebbe partire Non dovrebbe nemmeno Eserci l'idea Che Onana possa partire Perché lo ritengo Davvero un signor calciatore E ritengo che Molto del progetto Inter di quest'anno Che è arrivata in finale di Champions Che ha vinto la Coppa Italia Che ha vinto la Supercoppa Italiana Che è arrivata terza in campionato Sia Grosso modo Per il lavoro svolto Da Onana Che inizialmente Per molti Quasi tutti Sembrava praticamente Un lavoro nullo Inutile Perché addirittura Molti avevano paura Di dargli la porta E tenevano Andanovic Adesso sembra quasi Eresia Perché Andanovic Ovviamente non può più Vedere la porta Con Onana Posizione numero 4 Attenzione per il caso E sarebbe tornato a casa E quindi Testo in cui Uno è una qualificazione Degli europei Due Non lo so Secondo me Che ci sono girati i coglioni Lui ha detto Lui ha detto Non è un capriccio Ho chiarito con Lukaku Sono nato via per infortunio È probabile È possibile Non voglio pensare male Sembra brutto Pensare male Però A parte che non ho capito La decisione di Tedesco Di dare la fascia a Lukaku Cioè nel senso A parte che Lukaku Manco è stato mai Così tanto decisivo Per il Belgio Soprattutto in tempi recenti Ma poi soprattutto Courtois È il miglior portiere del mondo Secondo me Forse alle spalle Di De Bruyne Il secondo miglior giocatore Del Belgio in assoluto Cioè quindi già Avrei un po' più capito Se l'avessero dato De Bruyne Anche se non mi sarebbe piaciuto Ma se il capitano È Comunque Courtois Ma perché la fascia Io vi dico la verità Cioè se Courtois Ha fatto sta ragazzinata Per me grosso modo Ha ragione Cioè perché tu la fascia Hai dovuto darla A Lukaku Completamente a caso Completamente a caso È come se l'anno prossimo Mourinho D'Amblè Dice Facciamo una cosa Pellegrini Togliti la fascia La diamo A A Smalling No Perché Cioè se fosse comportato male Ti direi Ok è una decisione che comprendo Capisco eccetera Fosse diventato una sega Perché può capitare Che diventi una sega Ti dico vabbè Sei diventato una sega Guardate tipo Romagnoli aveva Peggiorato drasticamente Le sue qualità Al Milan Ci sta che poi Tu venga depennato Che poi non è mai stato Depennato da capitano Quando giocava Era sempre il capitano Però poi piano piano È stato via via depennato Fino ad essere ceduto E dare la fascia Appunto al prossimo Che è stato Calabria Tra l'altro Però ci sta come situazione Ma in questo caso Courtois resta Il miglior portiere del mondo Uno dei migliori calciatori In assoluto del mondo Il secondo calciatore Secondo me più forte Del belgio In assoluto Perché dare la fascia A Lukaku Personalmente non ho capito La decisione di Tedesco Ma è stata la sua decisione Non ho null'altro da dire Saliamo sul podio Con la posizione numero 3 Moncada Moncada Che è quello Che farà gli acquisti Credo quindi Possiamo parlare Di direttore sportivo Ha deciso che Guler Guler sarà il sostituto Di De Ketelare 18 anni Arriva dal Fenerbace In Turchia Ha fatto impazzire tutti Costa 15 milioni di euro E lo hanno individuato Il Moneyball Del Milan L'algoritmo del Milan L'avrebbe individuato Appunto Come sostituto Di De Ketelare Tra l'altro Sto leggendo Che Diversi calciatori Fanno parte di questo Moneyball E appunto interessano Al Milan Da Zegrova Di cui si è parlato spesso Anche In relazione al Napoli Passando poi Per lo stesso Guler Che piace veramente tanto Voglio capire Voglio capire Perché È un giovane È un ragazzino Avrebbe bisogno di tempo Però secondo me È uno di quei giocatori Che può veramente esplodere E fare la differenza Chiaramente Ve lo ripeto Piano Piano Un passo per volta Se gli mettete ansia È chiaro come faccia fatica Deve ancora arrivare Quindi insomma Parliamo di ansia Anche per nulla L'unica Riflessione che vado a fare È in relazione A Chas De Ketelare Sarai il sostituto Di De Ketelare Sì Ma che so Più a De Ketelare Cioè Pensiamoci un attimo Chi è che va a fare L'investimento Per andare a prendere De Ketelare Perché al momento Non lo so Cioè Qual è la squadra Che sarebbe disposta A spendere 25 26 28 milioni Per De Ketelare Faccio fatica Faccio fatica A crederlo Faccio fatica A credere che ci sia qualcuno Pronti a puntare tutti quei soldi Io te lo posso prendere in prestito La sega Te lo rispedisco E questo poi Non ti permetterebbe Di investire 15 milioni netti Su un sostituto di De Ketelare Senza vendere il belga Quindi non lo so Cioè Io me lo posso immaginare Come sostituto di Brahim Diaz Qua logicamente ci sta Parte Brahim Te lo prendi Sì spendi 15 milioni Brahim non è mai speso niente Non è incassato nulla Chiaramente Però comunque Di serve un giocatore lì Perché non è più trequartisti Perché Adlilo dare via Perché se arriva l'occasione Come avevo già detto De Ketelare va via Però presentarmelo Come sostituto di De Ketelare Secondo me è veramente Tanto, 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 tanto Tanto, tanto difficile Posizione numero due Attenzione per Di Maria Ha fatto tutte quelle bizze Vuola tornare in Argentina Che non vuole fare due anni Con la Juventus e tutto quanto Si è svincolato E alla fine della fiera Vuole non andare Allora aspettate Prima di tutto Ha arrivato l'offerta Dall'Inter Miami Per portarlo con Messi Però c'è un'altra offerta Che secondo me È molto interessante E cioè Arriva dal Benfica Pare che Otamendi L'abbia chiamato Otamendi Che lo conosce molto bene Gli ha detto perché Non torni al Benfica Tu che sei stato lanciato Dal Benfica Perché non chiudi la carriera Lì Allora Adesso Bisognerà fare una considerazione Per Di Maria La considerazione numero uno È che Di Maria Tornerà In Portogallo E qua quindi rimani in Europa Rimani in Europa Non riesco a capire Perché abbia deciso Di non rinnovare Con la Juventus Lì dove Si il Benfica Fai la Champions League Ma Non lo so E poi Non mi piacerebbe Nemmeno troppo come colpo Per il Benfica Perché è vero che Di Maria È Di Maria Però è anche vero che I Lusitani Hanno comunque fatto Un piano Un play In futuro E presente Dove hanno un sacco Una marea di giovani E puntano soprattutto Sui giovani Quindi considerando Che poi il Benfica Tanti calciatori Li perderà E li sta perdendo Li ha persi anche a gennaio Uno su tutti Enzo Fernandez Sinceramente Mi viene Da domandarmi Perché andare a prendere Un calciatore Che c'ha 35 anni Non è per niente In linea Con le aspettative Con il piano Di mercato Del Benfica La seconda possibilità È quello di vederlo In America Potremmo vederlo In America All'Inter Miami Questa secondo me Forse è la possibilità Più grande Perché Perché c'è Messi Perché lo vogliono Perché lo riempirebbero Di soldi Perché sarebbe Fare un sacco di soldi Ma senza necessariamente Dover andare A vivere in un posto Che poi può non piacerti Ok Ecco O comunque Non dover Tornare comunque In un campionato Dove un minimo di visibilità Ce l'hai L'MLS comunque Sta prendendo Dopo anni e anni Di lavoro Un minimo di visibilità Quindi voglio credere Tutto sommato Che Di Maria lì Poi giocando con Messi Un po' di visibilità Ce l'avrebbe E poi Se tornerrebbe bene Sarebbe Cioè Regà è figo Alla fine Pensateci Cioè tu comunque C'hai il tuo miglior amico Che è Messi Stai bene con lui Ti chiamano a te il tuo miglior amico Ad andare a vivere in America Stare lì un anno Due anni Prendi un sacco di soldi Ti riempono di soldi Stai tutti pomeriggi Con l'amico tuo Che famiglie vostre Vi divertite Uscite fuori Fate i signori Cioè alla fine è figa come cosa Secondo me Quella è proprio l'idea migliore E poi ci sarebbe L'arrabia solità Che se no Gli darebbe ancora più soldi Però Al momento Non ci stanno cifre Non ci stanno situazioni Quindi non le valutiamo E poi per concludere Tornare in Argentina Però in Argentina C'è sempre tempo per tornare La possibilità te la dà sempre Se Di Maria Tra sei anni C'è 40 anni 41 anni Dice a qualunque squadra argentina Anche al Gimnasia Che dice Mi prendi? Noi dici Sì dai ti prendo Volentieri Dai vieni Vieni Vieta a fare una stagione Tanti in Argentina Soldi non ne prendi Non è che ce ne prendi pochi Non è che ti arricchisci in Argentina Quindi per me Se proprio vuoi chiudere là Per un tuo discorso Per me insomma Quella sarebbe la soluzione Un po' più adatta E alla posizione numero uno E qua ce lo leggiamo tutti Attenzione Perché Agnelli Ha presentato il ricorso al TAR Contro i due anni di squalifica L'ex presidente bianconero Contro i due anni di squalifica Decisi dal collegio Di garanzia del CONI L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli Ha presentato il ricorso al TAR Contro la decisione Del collegio di garanzia Dello sport a del CONI Che ha sancito per lui Due anni di squalifica Per la vicenda Plus Valencia Lo apprende l'ANSA Proprio oggi scadevano i termini Per presentare appello Alla giustizia amministrativa A guidare il team Di legali di Agnelli In questo momento L'avvocato Vittorio Angiolini È fissato invece Per il 27 giugno Slittato dal 15 giugno Il processo davanti Al Tribunale Federale Nazionale Della FIGC Nei confronti di Agnelli Sul caso della cosiddetta Manopra stipendi L'ex presidente della Juventus È stato l'unico A non accettare il patteggiamento Tra i dirigenti bianconeri Attenzione Agnelli non ha accettato Il provvedimento Cioè quindi Agnelli Comunque verrà giudicato E verrà valutato Quando invece anche il club Ha patteggiato una sanzione Di oltre 700 mila euro Chiudendo ogni pendenza Davanti alla giustizia Sportiva italiana Il club aveva la voglia L'intenzione di patteggiare Per evitare di avere Altri punti di penalizzazione Su Agnelli Se sa che non ha fatto nulla È giusto che non abbia patteggiato Io sono curioso Perché se dovessero Poi togliergli l'inibizione La mia domanda è E non lo so Però è fattibile In futuro Agnelli Tornerà presidente della Juventus Non lo so Vi dico non lo so In questo momento È difficile pensarlo Però comunque Lui si è dimesso Perché c'erano tutti quei problemi Ma se lui poi Viene giudicato innocente Perché non dovrebbe tornare alla carica Lui che ha portato La Juventus a nove anni Di scudetti di fila Lui che ha portato la Juventus A due finali di Champions Lui che ha sempre fatto Bene o male scelte azzeccate Poi qualcuno piace Una a qualcun altro no Ma comunque Sono sempre state scelte Che hanno pagato Perché non dovrebbero Di base Portare Non dovrebbe Di base Tornare Alla Juventus E io questa cosa La valuto Io questa cosa Me la segno E la voglio vedere Perché per me Una possibilità c'è E sarebbe clamoroso Cioè sarebbe clamoroso Se Agnelli tornasse Presidente della Juventus Intanto fa il ricorso Presenta il ricorso al Tar Contro i due anni di squalifica Se gli togliessero i due anni di squalifica Per me c'è un'ottima Un'ottima Possibilità Che torni E poi lì andranno valutate delle cose Perché la Juventus ha cambiato CDA La Juventus ha cambiato Presidenti Quindi Chi dirige Tutto quanto La Juventus sta cambiando Direttore sportivo Sta cambiando stile Di comunicazione Sta cambiando idea Sulla Superlega Lui che è assolutamente A favore della Superlega Cioè quindi in questo momento Ci sono due fazioni Una chiara E una scura Praticamente La parte bianca E la parte nera Del bianco nero Della Juventus Dove una Praticamente Vuole La Superlega E l'altra Non la vuole Una Va contro il patteggiamento E l'altra Non va contro Una Anzi l'altra È al momento A capo della Juventus Una La prima È stata fatta fuori Dalla Juventus È stata Inibita È stata squalificata Ma potrebbe tornare Qualora il Coni Accettassi il ricorso E annullassi due anni E allora sono curioso Di vedere quello che succederà In questa In questa Civil War Della Juventus E sì E sì E sì E civil war E sì 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 Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Mi ti ho lasciato tantissimo Mi piace Buon cialalala E noi come sempre Ci vediamo al prossimo Video Ciao